Qualche merito? Allora, io ho sempre sofferto, sono stati momenti positivi, momenti negativi, gente che mi ha criticato, giustamente nel senso che comunque, veramente nello sport, ma anche nella vita, ci sono persone che criticano, ci sono persone che dicono cose positive e queste critiche non è che mi hanno dato un fastidio totale, nel senso che io poi alla fine andavo veramente avanti per una strada e le critiche, quelle che erano Belenelli dell'NBA, Belenelli di Ateneo Europa, Belenelli è troppo magro, Belenelli non sa difendere, mi hanno dato secondo me la forza di dimostrare a tutte queste persone che si sbagliavano. Ciò non vuol dire che io adesso sono arrivato, ma che comunque io voglio ancora fare di più e sicuramente questa è una motivazione grande per me, per cui adesso io sono qua, ho detto il titolo, sono migliorato come un giocatore ed è arrivata la gara di tiro da 3 punti. Poi ovviamente un'altra grande cosa è sicuramente la mia famiglia, la mia famiglia, mia mamma, mio padre, i miei fratelli, i miei migliori amici che sono qua, uno è lì con la camicia blu, poi c'è un altro che adesso non so dov'è, c'è l'Elisa Guarnieri che è la mia PR che è fantastica e ci sono anche altri miei amici che non sono qua e mi hanno dato veramente la forza di non mollare mai, hanno sempre venuto in me e sono qua soprattutto forse grazie a loro e alla mia famiglia, perché forse probabilmente avrei mollato, però io personalmente come persona, come carattere sono veramente molto forte, è difficile che uno mi abbatta, io voglio vincere a tutti i costi e se ci credo io voglio veramente esadire questi sogni.